Attuare la Costituzione italiana che è nata dalla Resistenza E' quasi tutto qui, potere al popolo, dentro la cornice della Costituzione italiana. La lista, nata su iniziativa del Centro Sociale Io so pazzo di Napoli, ha raccolto le firme necessarie in tutta Italia e dal basso ha redato il suo programma. Noi vogliamo che ci sia uguaglianza per tutti. Lavoro, scuole, sanità pubbliche, trasporto, immigrazione e integrazione i pilastri della forza politica che punta a dare una vera anima di sinistra al nuovo Parlamento. Il lavoro, sanzito anche dall'articolo 1 della nostra Costituzione italiana, che l'Italia è un paese fondato sul lavoro. Dalla prossima settimana anche Potere al Popolo promuoverà la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare dalla modifica del Rosatellum all'abolizione del pareggio di bilancio, alla modifica dell'impianto Buona Scuola. Dentro la Costituzione c'è tutto il nostro benessere, tutte le nostre lotte.